Musica Mercato Totale oggi presenta qui da Vicenza un nuovo, per noi ovviamente, produttore di Illuminotecnica, dico bene? Esatto Claudio Coletta, per voi, direttore commerciale della PlayLED e allora diciamo chi siete così ci presentiamo ufficialmente Siamo un'azienda giovane, siamo specializzati nella produzione di apparecchi per illuminazione a LED il nostro obiettivo è sempre stato quello di produrre apparecchi che rispondano a una precisa esigenza di mercato come tutte le aziende giovani dobbiamo lavorare sull'innovazione di prodotto Non possiamo permetterci di presentare sul mercato prodotti che non facciano dell'innovazione e il loro punto di forza Bene, allora spiegami in che cosa pensate di potervi differenziare dagli altri? Innovazione, affidabilità e un ottimo rapporto qualità-prezzo Dimmi quali sono i vostri prodotti, i vostri must, come riconosciamoli per nome? Noi siamo riconosciuti per i nostri prodotti da esterno la linea dei passivati che è quella che ci ha fatto apprezzare maggiormente sul mercato produciamo anche molti apparecchi per interno e anche delle strip LED Bene, secondo me è interessante dire anche da dove venite perché siccome sappiamo che il grosso delle industrie italiane sono in certe zone voi invece arrivate da... La nostra unità produttiva è in Puglia esattamente a Canosa di Puglia in questo momento abbiamo fatto un grosso investimento una nuova unità produttiva di 6.000 metri quadri che verrà dotata dei più moderni e innovativi sistemi di costruzione la zona è nella zona industriale di Barletta questa nuova unità produttiva mentre gli uffici commerciali la ricerca è da sempre a Firenze Senti, tu sei il direttore commerciale quindi è giusto dire a te chi sono i vostri clienti? A chi vendete i vostri prodotti? Privalentemente ci rivolgiamo ai grossisti di materiale elettrico specialmente quei grossisti che fanno della luce un loro core business Vedo questi colori giallo dominante ma anche un blu petrolio quasi Ecco, perché questi colori? Dobbiamo farci riconoscere non solo per i nostri prodotti innovativi ma anche per i nostri green color E invece il nome Playled come nasce? Un nome? Un nome Un nome Un nome che però mi sembra ben mirato Sì Senti Claudio, ovviamente per concludere qui oggi vediamo e mostriamo dei vostri prodotti ma dove? Verso che cosa andate? Vogliamo continuare a crescere con la ricerca sempre più personale e tecnico abbiamo aggiunto due nuovi ingegneri in azienda stiamo crescendo anche nelle nostre strumentazioni Nella nuova unità produttiva avremo oltre alla capacità di produrre anche la capacità di studiare meglio quello che stiamo facendo e quello che dovremo fare strumenti di laboratorio ancora più innovativi e più interessanti Vedo mentre ti parlo anche un Green Award Allora un premio è credo, leggendo la parola Green che si parli di sostenibilità Sì, questo grazie all'attenzione della nostra azienda alla sostenibilità e al rispetto del pianeta Quindi siete un'azienda giovane e up to date con i tempi Esatto Vorrei salvare il mondo? Ma diciamo ci accontentiamo di illuminarlo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti